Mi piacere, sono Filippo, sono di Venezia, ho tre lavori, sono un commerciale sostanzialmente e opero sia nel settore dei utilities che anche nell'immobiliare e nel realizzamento di interno. Questo evento l'ho saputo in quanto già seguo Patrizia da due anni, forse anche di più, e tramite le dirette che fa su Facebook e anche le informazioni, con qualche lavoro di gruppo, ho scoperto di questa opportunità. Ho deciso di partecipare perché ho sentito una forte emozione, una forte chiamata e poi conoscendo anche il gruppo spettacolare e anche il metodo di Patrizia già sperimentato, molto efficace, ho sentito questo gran desiderio di essere presente perché so che, come lo è stato, è una grande opportunità di miglioramento, cambiamento e di lavoro interiore. L'evento iniziale mi ha colpito tutto, in particolar modo quello che mi ha emozionato di più è stata la giornata sul lago, sul Cammino del Rei, per me è stato fondamentale per, diciamo, dare una svolta personale, riscontrare quello che è, trovare anche delle conferme nel gruppo e poi comunque mettermi in gioco in maniera profonda su più livelli, oltre allo spettacolo di questa avventura di gruppo. Le attività che abbiamo fatto ne sono state diverse, come ho detto sono state tutte per me fondamentali perché tutte sono come una colana di perle, si collegano l'una all'altra. Probabilmente quella che abbiamo fatto nel lago, quel lavoro di personale su lasciare andare il nostro passato e capire cosa vogliamo realmente, trovare la nostra missione di vita e comunque prolettarci sul futuro, quindi lavorare sulle nostre ferite emozionali, lasciando il passato e concentrandoci sul nostro cambiamento, sulla nostra virtù. Mi porto a casa sicuramente un bagaglio che non ha apparezzo, incredibile, non ci stanno le emozioni da quanto grandi sono, sicuramente un arricchimento personale, una cosa di poveri e sub maggiore, comunque un lavoro di gruppo importante, persone speciali e sicuramente anche un ricordo indelebile perché diciamo che non sono cose molto rare da trovare, da vivere, da condividere che ti permettono sicuramente inevitabilmente un cambiamento efficace e concreto. Meravigliosa. Pena torno a casa, la prima cosa che farò è sicuramente, come ho fatto già una promessa su me stesso, concentrarmi su, mettermi a lavorare, studiare e non mollare un attimo perché è fondamentale portare avanti l'energia che si è coltivata in questo momento e non disperderla, quindi non essere dispersivo e bensì più costante, determinato, perseverante e concreto. Vuoi fare un saluto e dire un grazie a Patrizia? Ciao Patrizia, ti ringrazio di cuore per la tua energia, per tutto ciò che fai con amore e con la tua spontaneità e genuinità, un grosso abbraccio immenso e sempre grazie di cuore perché grazie a te devo riconoscere che la mia vita sta migliorando in maniera molto molto grande, grazie ancora.